Ciao a tutti, facciamo un video un po' particolare oggi perché riguarda un esperimento che ho cominciato l'anno scorso, non è il primo esperimento che faccio sui cactus, nel senso che abitualmente già da diversi anni sperimento un po' sui vari materiali, in particolare sui substrati e sulle tecniche di coltivazione per vedere un po' come reagiscono delle piante da stessa semina, ovviamente perché si deve partire da una base diciamo uguale, a diversi tipi di coltivazione, a diversi regimi di innaffiatura, fertilizzazione, ma soprattutto a diversi terricci. In questo caso stiamo vedendo 6 mammillaria, sono 6 mammillaria aniana nella fattispecie che ho preso poco più di un anno fa e sulle quali ho fatto un esperimento con vari tipi di terriccio. Di questo esperimento ho scritto un articolo esattamente un anno fa, pubblicato un anno fa il 12 luglio sul sito Nel Fiore Tra le Spine. Ovviamente vi metto il link qui sotto per poter andare a vedere questo e leggere tutto l'esperimento che ho fatto e soprattutto per poter vedere come erano esattamente queste 6 piante un anno fa, prima che io le mettessi in terricci particolari. Preciso semplicemente che avevo comprato delle piante che erano grosse, forse la metà di quello che sono adesso ed erano piante normali in un vivaio, quindi erano praticamente in pura torba. Quindi io le avevo ripulite completamente, fatte asciugare per diversi giorni e poi rinvasate in 3 tipi di terriccio diverso che adesso andiamo un po' a vedere. Le foto di tutti quei passaggi compresi la descrizione approfondita dei terricci è nell'articolo che troverete qua sotto. Vi ricordo che il sito è in abbonamento ma abbonandosi non si va a leggere solo questo articolo ma tutti i contenuti del sito. Questo deve essere chiaro naturalmente. Ora passando subito all'esperimento, diciamo che io avevo preso queste 6 mammilari identiche da stessa semina quindi si partiva da una base ovviamente uguale, quindi erano tutte dalla stessa semina. Erano tutte all'incirca grandi uguali con delle lievissime differenze tra una e l'altra diciamo perché è normale, perché chiaramente in natura non si possono avere due esemplari perfettamente identici. Però erano tutte più o meno della stessa dimensione, salvo un paio leggermente più piccoli. Cos'è successo? Che a distanza di un anno mettendoli in tre terricci diversi volevo vedere come reagivano e come crescevano queste piante e devo dire che ho avuto una sorpresa in particolare perché ho fatto tre tipi di terricci, partiamo da qua per vederlo. Questo è il più comune, il classico terriccio pomice, lapillo e torba in parti uguali al quale probabilmente avevo aggiunto un pochino di sabbia ed è quello che vedete sostanzialmente qua, questo è il terriccio standard che uso per moltissime piante e che si usa in generale per moltissime piante. Quindi per queste due mammillari ho usato quel tipo di terriccio lì. Per queste altre due invece il terriccio era leggermente, anzi era abbastanza diverso perché c'era terra di campo, argillosa, e poi ancora sempre la pomice che vediamo anche qua, ad esempio questa è un jolly che io uso in praticamente tutti i tipi di substrati che vado a realizzare per i cactus. Oltre alla pomice c'era un pochino di lapillo e della ghiaia e pochissima torba, penso un 10%. Comunque ripeto, la descrizione esatta del terriccio che ho usato la trovate tutta nell'articolo che trovate qui sotto. E il terriccio più particolare era quest'ultimo, che è stato proprio un vero e proprio esperimento, nel senso che era un terriccio che io non ho mai utilizzato, a base di terra di campo e altri elementi un po' particolari che si usano magari un po' meno e che mi ha dato un risultato che io francamente non mi aspettavo perché come potete vedere, salvo forse queste due, io direi che c'è una bella battaglia, insomma tra queste quattro, quelle che mi aspettavo che sarebbero cresciute di più sono proprio quelle che sono cresciute di meno, cioè nel terriccio standard, come potete vedere tranquillamente anche dalla ripresa, vedete che sono più piccole, sono anche un po' più schiacciate e un po' più basse, e forse questo non è assolutamente un male perché sono belle le piante un po' schiacciate, sono così anche in natura, non che queste siano cresciute male, anzi tutt'altro, però come vedete si sono, diciamo, gonfiati e allargate moltissimo rispetto a quelle, e io non me l'aspettavo, nel terriccio normale perché pensavo proprio all'opposto, che questo avendo dentro pomice e lapillo, trattenendo un po' più l'umidità rispetto agli altri due che sono terricci un po' più poveri, anche in fatto di torba perché là ce n'è di più, francamente mi aspettavo una crescita maggiore in queste, queste due, invece sono stato completamente smentito, la crescita maggiore l'hanno avuta queste quattro, a occhi e croce io direi che si sono gonfiati un po' di più queste due centrali, e queste in un terriccio un po' particolare mi hanno stupito perché sono partite molto bene, e diciamo che anche loro sono cresciute più di quello che mi aspettavo, altro particolare importante è che tutte e sei le piante a loro tempo, quindi un mese, un mese e mezzo fa, due mesi fa se non ricordo, comunque hanno fiorito tutte, tutte e sei le piante, quindi le piante sono perfettamente in salute, hanno fiorito tutte nel loro momento, facendo la classica coroncina tipica delle mammillaria, qua all'apice con i fiori color fucsia diciamo all'incirca, è tipica delle mammillaria aniana, quindi dal punto di vista della fioritura non c'è nessuna differenza da rilevare per quanto riguarda i terricci. Ah, la cosa fondamentale che viene descritta però anche nell'articolo è che sono state tenute ovviamente praticamente nello stesso posto, nella stessa posizione di un bancale, quindi hanno ricevuto la stessa identica quantità di luce, le stesse identiche annaffiature, perché quando ne annaffiavo una annaffiavo tutte le altre, lo stesso tipo di fertilizzazione, pochissimo, al massimo un paio di volte all'anno, e cos'altro? Ah, le stesse temperature, perché hanno passato l'inverno nelle stesse identiche condizioni. Sono tutte in vaso da 8 cm, e come vedete, ecco, queste sono le differenze, io intanto per far vedere, guardiamo ad esempio, senza alzarci troppo, guardate la differenza che c'è tra questa, questa pianta, questa mammillaria che è nel terriccio canonico, e questa che è nel terriccio, infatti come vedete dal cartellino, ho usato un cartellino rosso qua, è in un terriccio molto sperimentale, la differenza direi è che è notevole, a parte che questa ha sviluppato una peluria molto più accentuata rispetto alla prima, e la rende più interessante, ma è anche molto più, diciamo, è cresciuta molto di più in un anno, stiamo parlando di un anno esatto di coltivazione, perché io il post l'ho fatto il 12 luglio dal 2020, e l'esperimento l'avevo fatto un paio di settimane prima, quindi diciamo che il periodo è passato all'incirca un anno, questo tanto per far vedere due differenze, vediamo, adesso mettiamole giù, vediamo un attimo ad esempio le differenze, questa è quella nel terriccio con terra di campo, vedete questi sono i residui della fioritura, i fiori secchi, che si possono vedere, anche questa è cresciuta molto bene, rispetto ad esempio a quest'altra, che era anche questa nel terriccio standard, è cresciuta bene anche questa, devo dire, però vedete che differenza notevole nelle dimensioni, guardiamola soprattutto da così, e si nota, ormai questa praticamente, tutte e due per la verità, per i miei standard andrebbero già rinvasate, cosa che io francamente non mi aspettavo, pensavo che almeno per due o tre anni potessero restare in questi vasi da 8 cm, ma direi che l'anno prossimo io queste già le dovrò rinvasare, se voglio mandarle avanti a crescere bene. Che dire, questo è un esempio, attenzione, è un esperimento molto limitato, perché stiamo parlando di 6 piante, quindi non ci dice più di tanto, naturalmente, perché per avere dei risultati più attendibili bisognerebbe fare esperimenti su numeri molto alti di piante, centinaia magari di piante, per vedere che cosa salta fuori, qui stiamo parlando di un piccolo esperimento che io ho fatto, così come ne ho fatti tanti altri su altre piante, che poi, che però ci può dare già qualche indicazione, qualcosa di utile per capire un po' le differenze nella coltivazione. Altra cosa importante è che tutte e 6 le piante sono in perfetta salute, perché, ripeto, oltre ad aver fiorito, sono, come vedete, in ottima salute, nessuna quindi è morta, nessuna ha avuto ristagni idrici, quindi i terricci, tutti e tre, sostanzialmente funzionano. Le differenze sono qui da vedere, ecco, ripeto, è indicativo, perché stiamo parlando di poche piante, però già ci dà qualche, come dire, qualche indicazione su come si possono comportare i vari terricci, quantomeno su questa particolare specie mammillaria agnana. Come al solito vi metterò diversi link qua sotto, il primo sarà quello proprio all'articolo di un anno fa, dove descrivo nel dettaglio l'esperimento, così chi vuole può capire e soprattutto confrontare queste riprese con le foto fatte un anno fa, per vedere come erano quelle piante esattamente appena prese un anno fa. Vi metterò poi gli altri link, e chi vuole si può abbonare al sito e leggere tutti i contenuti del sito, che sono centinaia di articoli, oltre foto, schede di piante, recensioni di libri, interviste, e c'è praticamente di tutto su questo sito. Se vi piace il video vi invito a mettere un like al canale, e vi ringrazio come sempre.